Come città nativa era più giusto festeggiarlo in tutti i suoi quattro anni. Oggi, a parte la statua che inaugureranno stasera, è perché comunque lui è un grande, è sempre stato un grande e se lo merita. La cittadina è da persona che l'ho conosciuto ed era una persona adorabile, oltre che un grande, veramente grande, si poteva fare di più. Io quando è morta ho pianto tanto tanto e quando l'ho visto anche lì mi si è aperto il cuore. A Roma no la festa, è bolognese e a Bologna si devono fare tutte queste cose. Noi siamo venute a vedere la casa con la musica che sarebbe stata chiusa, però solo il fatto di essere qui è sempre una grande emozione per noi della nostra generazione, che abbiamo vissuto gli anni più belli della nostra giovinezza con la sua musica. Io spero vivamente che anche solo quest'altro anno possa essere aperta per tutti, per tutti quelli che comunque vogliono stare vicino ancora, perché è difficile comunque accettare il fatto che lui non ci sia più.